Si ritorna in casa dinanzi al pubblico amico. Domani alle 14.30 il Gela al Presti ospiterà la Versa Norman nell'ambito della dodicesima giornata del campionato di Serie D. I biancazzurri sono reduci da due vittorie di seguito e filano come un espresso. Un vecchio adagio, sempre di moda, recita. Non c'è due senza tre. Domani si brinda al terzo successo consecutivo. La domanda l'abbiamo posta al tecnico Pietro Infantino. Il Gela deve pensare a fare la partita. Io credo che con questi componenti di aggressione, di umiltà, di compattezza i risultati vengono. Credo che abbiamo trovato la strada maestra per affrontare questi avversari. Adesso viene la Versa Norman, ma noi tutta la settimana lavoriamo su noi stessi. Io credo che se il Gela è molto concentrato, è aggressivo, è propositivo, credo che l'avversario è meno forte di come lo presentano. Un gruppo granitico quello del Gela, una famiglia vera e propria. Questa squadra, questo gruppo sta dimostrando veramente grande coesione. Io quando sono arrivato ho detto due parole, famiglia e lavoro. Io conosco solo questi, siamo cresciuti con questi valori e la famiglia si vede nei momenti di difficoltà, di unione, di aiutare il fratello. E il lavoro perché credo che solamente con il lavoro, con l'umiltà, con la caparbietà, ci sono i risultati alla lunga e vengono sempre. Ma ancora pensate alla salvezza oppure bisogna parlare anche di altro? No, ma noi non... Porsi dei limiti secondo me è molto limitativo verso una persona, verso qualsiasi lavoro fai. Io credo che ognuno deve essere ambizioso. L'obiettivo principale è quello di migliorarsi giorno dopo giorno. Ho detto una frase, quella di stupirci per stupire. Nel senso stupirci perché magari un giocatore all'inizio pensa di non saper fare una cosa, invece con il lavoro, con la caparbietà che ho detto prima, riesce a fare un'azione, uno scatto, un salto che prima pensava di non farle. Solo così si può stupire le persone, migliorandosi, lavorando sempre con grande serietà. Ho detto ai ragazzi che a noi ci devono dire che siamo scarsi, ma mai poco professionali. Questo è l'obiettivo principale di questo gruppo. Non ci dobbiamo porre dei limiti, dobbiamo essere ambiziosi con noi stessi e lavorare con molta serietà. Sicuramente i risultati con questo equilibrio che c'è in questo campionato, i risultati vengono sempre.